Accantonare la mente Charles Richet, 1850-1935, fisiologo francese, premio Nobel nel 1913 per la sua scoperta dell'anafilassi. Dal 1884 si interessò alla medianità, che in quei tempi era soprattutto ad effetti fisici. Medianità di Eosabia Paladino, Marthe Bero, Elisabeth Desperance, William Eglinton, Stefan Ossoieschi. Con io il termine metapsichica, fu un campione della lotta per la verità in sé stessa. Commento Richet fu uno scienziato molto avanzato, perché seppe accantonare la mente che pure gli aveva conquistato il premio Nobel per comprendere il contatto con i piani superiori di esistenza. Nel nostro tempo, in maniera molto più precisa di allora, i maestri immateriali ripetono «Noi vi amiamo!» per dimostrare la loro realtà a noi che ci perdiamo nell'inutile ricerca di prove del fenomeno medianico. Richet aveva intuito che l'unica prova dell'esistenza dei maestri immateriali è ciò che il nostro sentire ci permette di far nostro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti